Ciao ragazze, ben ritrovati finalmente con un nuovo video. Oggi vi vorrò parlare di alcuni prodotti che uso per la pulizia del viso. Questi prodotti sicuramente sono indicati per persone che comunque hanno problematiche acneiche. Non sono per tutti, è veramente per problemi che ha pelle molto grassa, con alcuni brufoli e rossori. Io mi sono trovata veramente bene, è veramente da tanto tempo che li sto provando e li sto testando ed è un ottimo prodotto, l'Ovo Coste. Non voglio dare il merito solo ed esclusivamente a questi prodotti che uso, ma conta tantissimo anche l'alimentazione. Adesso vi farò vedere i prodotti in questione che sto parlando. Il prodotto in questione che io sto usando principalmente è questo latte detergente della marca Tabiano, è fatto con un zolfo. Voglio dirvi una cosa, non è come tutti gli altri prodotti che noi conosciamo, fatto con l'ozolfo, che è molto pesante, comunque dà un cattivo odore. Questo è veramente buono, è dalla marca Tabiano, è un latte detergente al biozolfo, delicato per tutti i tipi di pelle. Per tutti i tipi di pelle io voglio precisare che non è che sia vero che sia ideale per tutti i tipi di pelle, perché io l'ho provato su alcune persone che comunque non avevano problemi acneici, gli sono venuti. Per questo io tendo a precisare che va bene per persone che hanno comunque problemi acneici, pelle grassa o mista. Questo prodotto qua si presenta così, in questo tubetto giallo, è un prodotto di 200 ml, completamente italiano, fatto a salso maggiore terme, ha un'apertura di 12 mesi, ed è un latte detergente al biozolfo. È delicato, efficace, pulisce in profondità, senza inaridire. Contiene biozolfo, principio attivo, altamente eudermico, riequilibrante, purificante, detossinante e rivitalizzante, privo del caratteristico odore dello zoffo di cui vi parlavo prima. E non è cesta di risciacquo. È veramente un ottimo prodotto, questo qui lo potete trovare in vari centri commerciali al costo di 3,50 euro o qualcosina anche in più o in meno. Comunque varia in base a negozio per cui viene dato la vendita. Si presenta con una cremina gialla, più che altro un biancastro. Adesso vi faccio vedere, così. È veramente molto delicata, al momento in cui è passato il latte detergente sul viso, a differenza degli altri detergenti, lascia una leggera profumazione, una pelle bella morbida, delicata, soffice, non tende comunque a seccare. Questo, diciamo, è una routine quotidiana che io uso per struccarmi. E che veramente, tanti di voi, quando posto le foto senza trucco, pensano o qualcuno mi dice che sono modificate, ma non lo è. Perché comunque, io prima avevo, prima di iniziare comunque la dieta, non ho mai sofferto comunque di brufoli, proprio di un'acne molto diffusa. Però avevo sulla zona degli zigomi, soprattutto in questa zona qua, sempre piena di brufoletti, ma sotto pelle, e dei rossori molto diffusi. Perché in questa zona comunque tendo a dare i ripori più dilatati. Da quando comunque uso questo latte detergente, e in più ho abbinato, sempre dall'azienda Tabiano, questo fantastico sapone, e credetemi, dico che è fantastico, perché costa solo 1,50 euro, ma è veramente buono, buono, buono. Anche questo ha un odore delicato, non è un odore pesante, non va a tirare la pelle, non si sente quella pulza, dello zolfo, cattivo odore, per intenderci. È veramente buono. Anche questo qui è fabbricato in Italia, o sempre della sua stessa azienda, e pesa 125 grammi, con un'apertura a 36 mesi. Ve lo faccio vedere. Questa azienda qua, è tutta un'azienda italiana, di salso a maggiore termine, e ha veramente una marea di prodotti. Ha prodotti per il viso, prodotti per i piedi, poi prodotti per i capelli, addirittura non si trova in commercio, io almeno qui a Udine non l'ho mai trovato. Ho visto, andando sul loro sito, che ci sono prodotti che alcune mie amiche le hanno testate, e mi hanno detto che sono veramente ottimi come prodotti, prodotti anticellulite. Sono veramente buoni, però io non vi posso parlare, perché comunque non li ho visti in giro, e non li ho provati. La saponetta si presenta così, con questa carta velina, io ne ho utilizzate tantissime, proprio per ridurle piccole piccole. Poi vi faccio vedere, che rassomiglia alla saponetta, quella di, non so, il sole, marsia, quella per comunque lavare gli indumenti. Ha un odore proprio fresco, di pulito. Ve la faccio vedere. Bene, si presenta così, gialla, con il loro marchio, del sapone marsia, specialità di salso maggiore terme, c'è anche inciso 1898, la fabbricazione dell'azienda. questo qui, questo sapone qui, io lo uso, dopo aver deterso la pelle. Non mi va a seccare, mi lascia la pelle, me la sento, come vi posso dire, io ho provato, sì questo sapone qui, della Tabiano, che non lo lascio, per me è ormai diventato, il mio migliore amico, lo porto sempre con me, anche fuori, in viaggio, in vacanza, lo uso sempre, non ne posso fare almeno. Al momento in cui, mi vado a struccare, con il latte detergente, io poi che faccio? Non contenta, perché comunque ormai, sono abituata così, perché vi voglio sentire, la pelle, proprio in profondità, molto più pulita, cosa faccio? Dopo che mi sciacquo, prendo il sapone, lo strofino sul viso, va a creare, una leggera schiuma, non brucia neanche agli occhi, però mi raccomando, non tenete gli occhi aperti, perché se no, un pochettino, vi potrebbe anche bruciare, no? Mi sciacquo con questo sapone qui, mi lascio una pelle, perfettamente pulita, proprio in profondità, proprio sento come che i miei pori, respirano, non li sento più, o chiusi, o struiti, da comunque, da fondotinta, da polveri, che vado ad utilizzare, e mi lascia, proprio sulla fronte, una leggera lucidità, ma non è lucidità, perché comunque la pelle è grassa, è una lucidità, che è proprio di pulito, proprio che, come che ti sgrassa, diciamolo così, in una maniera, non tecnica, non adeguata, per rappresentare questo sapone, è veramente ottimo, io comunque, non vengo pagata da nessuna azienda, perché a me non mi caca nessuno, di sponsorizzare questo prodotto, è stato acquistato da me, sono prodotti che comunque, io ho testato veramente, tanti 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 mesi fa, continuo comunque ad usare, perché è un ottimo prodotto, e mi trovo bene, sono una cosa fondamentale, in questo periodo di crisi, sono prodotti love cost, a volte andiamo a spendere, tantissimi soldi, per crema knèche, che poi non fanno un cavolo, mentre con questo prodottino qui, latte detergente, e il sapone, non so se l'azienda, ha fatto anche un tonico, perché io in giro non lo vedo, e attualmente non sto andando a visitare il loro sito, però credetemi, se avete alcuni problemi di acne, brufoletti, anche sulle spalle, anche addosso, vi straconsiglio di usare il sapone, però lo dovete usare quotidianamente, tutti i santi giorni, vedrete dei benefici, che rimarrete anche voi, perché proprio va a seccare il brufolo, lo secca, e poi man mano, man mano, si toglie, non vedete più niente, poi, questi sono i miei prodotti, della marca Tabiano, che io uso, che mi trovo veramente abbastanza bene, come struccante, per gli occhi, io uso un bifassico, anch'esso, low cost, lo trovo comunque, nei supermercati, dell'azienda ACU10, alcuni ne hanno parlati bene, alcuni ne hanno parlati male, però io vi do, la mia esperienza, io lo uso, è un prodotto, che non vi nego, che compro sempre, 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 perché mi trovo bene, lo trovo giù a casa mia, e non mi brucia gli occhi, mentre ho sentito tante, invece che gli fa l'effetto contrario, brucia, è un po' oliosa, al momento in cui, vai a sciacquare, con questo prodotto, ti lascia la palpebra, oliosa, però, io lo trovo, veramente buona, a differenza degli altri, ed è questo qui, l'ACU10, che ha una metà colorazione, azzurra, blu, e metà bianca, va miscelato, shakerato, per far sì, che i due componenti, si vanno ad unire, ed è un prodotto, di 150 ml, e ha apertura, 12 mesi, questo prodotto qui, ve l'ho recensito, anche in un video mio, molto molto vecchio, se non mi ricordo male, e questi sono i prodotti, che uso, poi uso un altro prodotto, che io personalmente, parlo sempre per me, mi sono trovata stra bene, è questo qui, della Garnier, 3 in 1, anche di questo, recensione positive, e recensione negative, d'altronde, un po' come tutti i prodotti, però io penso, che ognuna di noi, ha un tipo di pelle, epidermide diverso, quello che può far bene a te, non può far bene a me, e viceversa, questo prodotto qua, della Garnier, ha apertura, 12 mesi, è un 150 ml, di prodotto, è un detergente, più scrub, più maschera, la gamma pure, è stata sviluppata, specificando, per combattere, le imperfezioni, del sebo, questo qui, io mi trovo bene, cioè, unumidisco la pelle, dopo aver fatto, lo uso anche, due volte alla settimana, non lo uso come maschera, ma lo uso solo, come togliere la pelle, diciamo, vecchia, lo uso solo per quello, come maschera invece, uso un altro prodotto, che attualmente, non ho sotto mano, è una maschera pura, fatta all'argilla, che comunque, mi è stata regalata, da una mia amica, che saluto, gli do un grandissimo bacione, e viene proprio, dalla rabbia, è proprio un loro prodotto, veramente ottimo, e mi trovo veramente bene, però adesso, non ce l'ho sotto mano, non ve lo posso far vedere, dopo finito tutto, la pulizia del viso, vado ad usare, la famosissima, acqua di rose, un prodotto, veramente buono, che so, che tante di voi, comunque, lo usano, viene comunque, ne parlano, veramente pochissimo, di questo prodotto, ed è veramente, un peccato, perché abbiamo, tanti prodotti buoni, però, anche io personalmente, vedo che costa poco, dico, sarà comunque, una cosa che non vale, sono anche io, la prima a pensarlo così, invece questo, mi va a lenire i rossori, dopo che comunque, ti vai a fare una detersione, rimangono un po' di rossori, oppure lo uso, quando mi vado a togliere, le sopracciglia, per calmare i rossori, e lo trovo veramente ottimo, come prodotto, poi, vi voglio, alcuni so che, sanno già in commercio, di questo prodotto qua, per il corpo, è la Leo Crema, è una confezione nuova, è una crema fluida, boh di lozione, per il corpo, io non vi nego, che la uso anche per il viso, e mi trovo, non bene, non benissimo, ma di più, stra bene, e anche adesso, è un prodotto che costa poco, ci sono di due formati, quello che ho io, è di 400 ml, e poi ho visto in giro, che c'è un formato più piccolo, se non ne ero, ho da 200, 150, adesso non mi ricordo perfettamente, perché in più, è uscito, un'altra Leo Crema, se non mi sbaglio, al tè verde, che io comunque, l'ho trovata in giro, in un supermercato, però non mi ricordo più dove, anche perché comunque, ci ho lavorato io, vedete un po' che memoria, ho in questo periodo, comunque, chiudendo la parentesi, questo è un prodotto, all'olio di Argan, 100% biologico, nutre veramente, 24 ore la pelle, la confezione è così, ha un packaging, veramente molto bello, uno potrebbe dire, sì, ma della bottiglia, vabbè, ha un packaging così, però, a noi interessa il risultato, il risultato, è super eccellente, super promosso, è un prodotto, veramente, secondo me, sarà elencato, come prodotto dell'anno, se non l'hanno già fatto, perché è veramente buono, ha un 400 ml, già l'ho detto, apertura 12 mesi, è veramente, stra delicato, sulla pelle, è molto, consistente, la crema, non è liquida, è bella, fluida, si va, a stendere, facilmente, va subito, ad assorbire, alla pelle, vi voglio far notare, non so se si vede, perché comunque, sto registrando, con il cellulare, con una luce, non tanto ottimale, perché qui il tempo è di merda, come al sotto, ormai arriva l'inverno, ciao, voglio farvi notare, che lascia la pelle, leggermente lucida, ma è una sensazione, che ti dà addosso, di freschezza, di idratazione profonda, pulizia, e poi, ha un odore divino, veramente buono, io quando l'applico, prima di andare a dormire, quando pure mi strucco, e robevare, l'indomani, sento ancora, il profumo dell'alio crema, è un validissimo prodotto, veramente ottimo, e non costa neanche tantissimo, è arricchito di vitamina E, vitamina A, acidi insaturi, omega 3, e ha proprietà antiossidanti, nutrienti, idratanti, ed ermoprotettive, un autentico ed efficace trattamento di bellezza, che assicura la pelle, un'eccezionale idratazione, e sorprendente, e sorprendente, setosità, e morbidezza, la sua profumazione, ti avoggi in una seducente, ed inebriante carezza, risultato, pelle incredibile, nutrita, vellutata giorno dopo giorno, e vi posso garantire, che quello che c'è scritto, a differenza di tanti altri prodotti, che, te li mettono lì in mercato, su commercio, che sono super miracolosi, cioè, senza parlare di alcune marche, anche di cosmetici, che io, personalmente, non spenderei neanche, un centesimo, solo perché devo stare a pagare la marca, ma al momento in cui mi è capitato, di usarli su alcuni clienti, dei prodotti, di marche prestigiosi, io mi sono trovata in difficoltà, perché comunque, cioè, paghi la marca, paghi, però, obiettivamente, a me prodotti che non piacevano, per niente, però, li dovevi dire, che erano, mamma mia, che cosa buona, bla bla bla, e invece, facevano schifo, a mio parere, comunque, questi sono i prodotti che io uso, perché tanti di voi, mi hanno chiesto, che prodotti usassi, per avere una pelle, senza imperfezioni, io prometto, che la mia pelle, a differenza di prima, è migliorata, tanto, 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 però, non voglio dire grazie, solo ed esclusivamente, ai prodotti che uso, perché comunque, sono sempre lì, che detergo la pelle, cioè, ho accortezza, queste cose qua, che faccio, nello struccarmi, nell'idratarla, e quant'altro, però, devo dire grazie, anche all'alimentazione, che ho cambiato, perché comunque, come voi sapete, ormai, sono 20 mesi, che io comunque, sto a dieta, sono arrivata, a dei risultati, eccellenti, scusatemi, mi manca veramente, pochissimo, per arrivare a normo peso, anche se, comunque, io non sto lì, con i numeri, fissati, arrivare a normo peso, perché, come alcuni di voi, sapranno, anche perché scrivo su Facebook, tengo sempre aggiornata, comunque, i miei contatti, sapranno, che comunque, io sono in lista, d'attesa, per fare la ricostruttiva, che cos'è la ricostruttiva, apro subito la parentesi, e la chiudo, dopo una persona, che comunque, ha perso, veramente, tanti chili, e ha necessità, che comunque, i tessuti, anche essendo giovani, comunque, sono andata a cedere, tramite la ASL, tramite comunque, alcuni ospedali, perché non tutti aderiscono, bisogna anche vedere, chi aderisce, chi no, si possono fare, degli interventi ricostruttivi, non li decido io, ma li decido il chirurgo, perché se io, per dire, io mi vorrei fare, che ne so, le tette nuove, un esempio, quelle non ti vengono passate le protesi, ti possono fare, un altro tipo di intervento, che comunque è convenzionato, comunque, che dirvi amiche mie, amici miei, io vi saluto, mi dispiace, che comunque, faccio pochissimi video, ma è anche un periodo, non tanto bello per me, posto sempre foto sorridente, robe varie, ma la mia testa gira, 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 perché, ho dei problemi in famiglia, che spero che si risolveranno presto, che cosa vi voglio dire, vi do un grandissimo bacione, spero di avervi fatto conoscere, un nuovo prodotto nuovo, mi sono dimenticata di dire, che per chi è amante, e chi va dietro comunque al bio, questo latte detergente, ha tante tante schifezze dentro, cioè, quello, lo tengo comunque a dire, che non l'ho elencato prima, non è che io non ci tengo alla mia pelle, voglio mettermi qualsiasi schifezza sulla faccia, però, io vi devo dire la verità, se questo prodotto, lo trovo buono, e mi fa una bella pelle, e comunque, è un prodotto che comunque, non mi ha creato nessun tipo di problema, io lo continuo ad usare, se poi, in tal caso, dovessi provare un altro prodotto, che è bio, e anche un prodotto, che comunque, mi conviene come costo, e quant'altro, sinceramente, non ci perderai nient'altro, che comunque provare anche altri prodotti, alla fine, voglio dire, uno, prende prodotti, che si può trovare bene, o male, a sua scelta, anche, in base comunque, alle possibilità, alla pelle, come reagisci, come non reagisci, comunque, mi sono dilungata tantissimo, come al mio solito, però, me lo consiglio, almeno, vi ho tenuto compagnia, un grosso bacione, e al prossimo video, ciao!